110 oggetti di scena, costumi e memorabilia provenienti dai set cinematografici hollywoodiani sono i protagonisti della mostra Movie Icons curata dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e da Luca Cableri della Galleria Teatro Mundi di Arezzo in programma dal 29 maggio che sarà inaugurata alla Mole Antonegliana alla presenza degli scenografi tre volte vincitori del premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, dalla piuma di Forrest Gump alla bacchetta magica di Harry Potter, dal casco degli Stormtrooper di Guerre Stellari fino alla pallottola di Matrix. Sono solo alcuni degli oggetti di scena originali che si potranno ammirare alla Mole e che hanno plasmato l'immaginario cinematografico negli ultimi 40 anni. Ad Arezzo il Teatro Mundi via Cesalpino 20 è meta di collezionisti provenienti da tutto il mondo. Luca Cableri, friulano trapiantato ad Arezzo per amore, ha saputo costruire con passione il suo Cabinet of Curiosities, portandoci anche pietre di luna e dinosauri che lui stesso è andato a scavare negli States. Tra una collezione e l'altra, tra un docufilm e una nuova impresa, Luca Cableri porta ora alla Mole Antonegliana la sua collezione squisitamente hollywoodiana. Un viaggio tra generi cinematografici attraverso oggetti iconici, costumi, locantine e curiosità.